Ritorna anche quest'anno a Garessio l'evento che celebra uno dei prodotti principi del territorio, ovvero la castagna garessina. La manifestazione nei weekend del 12 e 13 ottobre, poi del 19 e 20 ottobre, propone mostre, caldarrostai, artisti di strada, musica, transumanza, percorsi eno, gastronomici a tema e ancora mercatini con prodotti di valle, visite guidate, laboratori, convegni e incontri tematici. Noi già ormai da 29 anni a Garessio facciamo il secondo, il terzo weekend di ottobre, la castagna garessina. La castagna garessina è un prodotto delle nostre terre che risale dal 1200, è nota nei libri di Garessio, era famoso albero del pane. Noi adesso chiederemo la denominazione, stanno chiedendo la denominazione di origine comunale, che ne definisca bene le caratteristiche e anche i modi con cui poi viene prodotta e trattata quando è secca oppure sotto forma di farina. Alla castagna garessina abbineremo concentrazione sul discorso dei funghi, che adesso come è noto è proprio una delle zone di protezione di raccolta maggiore. Le nostre strade sono invasi da Ligure che vengono a prendere i funghi e penso che una visita proprio nelle zone dove i funghi sono più numerosi possa essere interessante. Quindi aspettiamo tutti a Garessio il secondo e il terzo weekend di ottobre.